Ragazzi dunque due parolina prima di iniziare con il video vi chiedo gentilmente di ascoltare tutto Tanto non vi ruberò tantissimo massimo un 30 secondi così Cercherò di essere il più rapido possibile Allora in pratica questo video l'ho caricato ieri il 24 febbraio Solamente che il video non è andato in feed infatti la notifica è arrivata a pochissimi di voi Infatti in 10 minuti ho fatto un terzo dei like che avrei potuto fare con i feed funzionanti Questa cosa mi fa incazzare e non poco perché comunque io con questo diciamo video ci ho messo veramente tanto tanto impegno E quindi vi chiedo gentilmente per chi ha già guardato il video di mettere un mi piace come ha già fatto Per chi invece lo vede per la prima volta beh godetevelo E niente vi ricordo come sempre lasciate appunto un bel mi piace perché per voi è poco ma per me è veramente veramente tanto Quindi niente ho già rubato troppo tempo quindi buona visione mi tolgo alle palle Ciao Big up ragazzi qua Giovi siamo qui con questo nuovo video Oggi siamo qui con i 10 iPhone personalizzati più costosi al mondo Quindi senza perdere altro tempo cominciamo Vi dico solamente di lasciare un bel mi piace e appunto un commento Suggerendomi una classifica da fare con magari un altro elemento Detto questo cominciamo subito Allora dunque al decimo posto troviamo un iPhone 6 Atelier Questo è l'iPhone più economico dei personalizzati Quest'iPhone è fatto in pelle di alligatore I colori possono essere vari Tutti ha scelto ovviamente E costa solo 2000 euro E io già ho paura Al nono posto iPhone 6 Caviar Questo modello è stato fatto solamente per il mercato russo ed è ispirata a Maria De Medici Andiamo a vedere sta Maria De Medici che cazzo ci hanno preso da statizia Perché mi cerca Maria De Filippi Maria De Medici Ok All'ottavo posto iPhone 6 Fred Evoke Quest'iPhone ha praticamente un restyling assurdo Infatti ha una scocca posteriore in legno di betulia della Carelia Che cazzo è il legno di betulia della Carelia Tutti lo conoscono eh E ha i tasti in oro Da 24 carati Nella parte del retro troverete appunto anche una mela Che non è la tipica mela Infatti vi è un vetro in zaffiro Questo bel cellularino costa 4300 euro Madonna Al settimo posto Gold Striker È un iPhone 5 in pelle ed oro Placcato Questo bel cellulare costa 4800 euro Subito passiamo subito al sesto Dai dai non no Via via non perdiamo tempo Al sesto posto iPhone 5 Immensory Quest'iPhone 5 è stato sviluppato da un team svizzero Che ne hanno prodotto solamente 50 esemplari Questa bell'iPhone è ricoperto di oro nella parte posteriore E il prezzo è molto influenzato dalla firma Mansory Che si trova nel retro E quanto costa questo cellulare? 4900 euro Al quinto posto iPhone 6 Brick Quest'iPhone è fatto da oro placcato giallo da 24 carati E ha il log costellato da veri brillanti Quest'iPhone 6 da 128 GB Costa la bellezza di 7200 euro E ancora non abbiamo visto proprio un cazzo di niente Ve lo assicuro Al quarto posto iPhone 5S sempre di casa Fred e Volker Incredibilmente questo iPhone 5S Che è stato fatto praticamente con oro puro 750 È fatto praticamente in dedizione limitata Infatti vi ne sono solamente 77 esemplari E costa 7255 euro E ancora non avete visto niente Al terzo posto E qui iniziamo un attimino a scaldarci Golden Dreams Incredibilmente non è un iPhone 6 E non è nemmeno un iPhone 5 È un 4S, è un 4S di merda Questi bastardi che cosa hanno fatto? Hanno presso sto iPhone 4S di merda L'hanno ricoperto nella parte posteriore tutta di diamanti Come potete ben vedere Infatti la casa già si chiama Golden Dreams E questo cellulare l'hanno chiamato Full Diamonds E hanno azzeccato il nome E questo bel cellulare costa solamente 86 fottuti mila euro Al secondo posto iPhone 5 Black Diamond Incredibilmente questo bel cellulare rozzo Come vedete è costellato da oro da 24 carati 600 diamanti Di cui solo 53 sono usati per la mela nel retro E questo bel iPhone quanto costa? 15 milioni di euro E non è finita qui eh Perché al primo posto Al primo posto Al primo posto Falcon Luxury Questo bel cellulare è stato realizzato in pieno oro giallo Con incastonato un diamante fancy rosa Che a parer mio è pure un diamante di me Quest'iPhone personalizzato è disponibile in versione 6 e 6S Quanto costa? Costa 77 milioni di euro Quindi ragazzi il video sugli iPhone personalizzati più costosi al mondo Finisce qui Vi ricordo come sempre Lasciamo un bel mi piace Un commento E ditemi appunto Un prossimo elemento Una classifica appunto da fare Condividete il video se volete Magari non lo so Su Facebook Twitter Whatsapp Quindi niente Da Giolli è tutto Big Up